Ah! Indy, vedo che hai trovato i nostri panini, bravo! Ah sì? Alla buon'ora, Indy, alla buon'ora! Ma da quanto tempo siete diviati? Eh, da un po'. Ti presento i ragazzi. Filippo, da Parigi. Salut! Poi c'è Hans, il nostro archeologo di Berlino. Conchita, da Barcellona. Hola, Indy, come stas? E Anik, dall'Olanda. I capto for verpen all'onderzo. Già. L'Unione Europea stanzia oltre 20 miliardi di euro l'anno per la ricerca scientifica. Dois seu uopin. Dr politique. Tot lo so. Mersi. L'Unione Europea.